E con una puntualità Svizzerland, buongiorno, buongiorno, ultima puntata di Polite Trimocchiano. Stamattina davvero, proprio precisi. Proprio precisi, senza audio, l'aveva rubato ausili l'audio. Sì, ce l'avevo a casa proprio. Esatto, lo potevi portare oltre, come dicono qui in zona. Sempre in Svizzera. Oh, sì, sì, vicino. No, no, siamo tra il Trentino Alto Andige e la Crucchia. La Crucchia. Chi avrebbe rubato pezzi di audio, audio ausili, ausili Crucchian, andare in Londra senza audio, tanto fare televisione non servire l'audio. Ok, basta, basta. Buongiorno, buongiorno qui in primo piano. Io vi lascio sempre fare, non so se avete notato, fino alla fine, fino all'ultima puntata. Fai un po' come il pongo, Antonella, brava. Sì, ma per forza, perché tanto voglio dire, cioè, tu mi guardi. Ma perché come il pongo? Sono io che guardo voi. Eh, di, di, di. Non si dice. Codici, codici, codici. Chi è il pongo qua? Facciamo adesso una regia, ho visto, ieri sera su Canale 5 amici con queste regie innovative. Ecco, le facciamo anche noi adesso. Fai vedere un po'? Buongiorno. Ammazzo. La mal di testa bestiale. S veo che stupidini stamattina. E allora, non so, è strano ma è vero, giuro, giuro. Cosa? È l'ultima puntata della stagione di quelli del primo piano. No. Finalmente. E' bellissimo che lo dice lui E' bellissimo che lo dica lui Finalmente l'ultima puntata Andiamo a casa Andiamo a casa Andiamo dove mi pare Tutte le domeniche impegnate Ma sai perché Nicolò? Perché Cristiano ogni anno aspetta questo giorno Per il pranzo Che si fa dopo La magnata Per la magnata Era ovvio E' venuto questa mattina Con il fazzolettino già qui sul colletto Pronto, le posatine In versione tascabile Che ha uno sguardo illuminatissimo Vedi oggi Ma non è vero Vedi delle gran vogliate Vogliamo salutare gli amici a casa Che sono sintonizzati su Radio Center Music Su 99 e 100 Io li saluto Ve lo dico subito Io non saluto nessuno Perché da te a Gallignano non prende Però potresti sentirla dallo streaming Sto scherzando Sto scherzando E va bene Insomma non importa Invece per quanto riguarda le TV Marche Siamo proprio coperti al 100% In tutti gli anfratti Insomma della regione Anche sotto terra Anche sotto terra? Anche sotto terra Mandiamo un grosso saluto Al nostro direttore Franco Grasso Che così ormai per l'ennesima volta È in Come si può dire? In officina In officina E combatte Combatte insomma con questi pistoni e cilindri Mi raccomando Franco un abbraccio Un abbraccione Ok Ok